Giacomo Maremmani che insieme a Cersei Cavella è stato uno dei migliori in pista e gestito davvero esperto, pur giovanissimo, la tua squadra che è partita con il botto all'inizio fallendo almeno tre occasioni clamorose, siete poi passati in vantaggio, poi è venuto fuori il grosseto. Che è successo a termini di questo pareggio che per voi può essere anche un risultato positivo evidentemente? Penso che il risultato positivo almeno personalmente non è, però vabbè, penso alla partita l'abbiamo un po' stata bene soprattutto all'inizio, poi anche secondo me tutta la partita perché loro giocando a zona è difficile attaccare, sono stati bravi, pazienti, tranquilli. Sono soddisfatto della squadra però peccato per l'errore finale, abbiamo tirato via 50 minuti di partita per un errore che è facilissimo evitare. Senti, come giudichi il campionato del Camaiore, mancano ancora due giornate al termine, siete soddisfatti complessivamente della vostra esperienza in Serie A2, Giacomo? Soddisfatti per metà, perché secondo me siamo partiti con una Coppa Italia strepitosa, vinciamo tutte le partite arrivando alla finale meritato, che poi abbiamo perso, però l'importanza per me tante volte è anche arrivarseli. Sì, poi secondo me siamo stati condizionati tanto da alcuni episodi che sono successi durante l'anno, alcune partite e da lì c'è stato un calo, non so di cosa, perché ci stavamo allenando bene, ci stavamo allenando tanto e forse condizionati da tanti errori nostri, tanti errori mi dispiace che lo mancano arbitrali. Questa cosa mi dà noia per l'occhi, però alla fine è così, sono due squadre e un arbitro e a volte c'è qualcun altro che dice le partite.